Qua, ok. Ah, la nave ce l'ho capito. Aspetta che chiudo. Ecco. Trovo questo il cursore che mi fa fastidio. In pratica consegnare, sì, consegnare la missione. No, non tornare giù. Non andare in giù. Mannaggia. Ho sbagliato stata. Non andare in giù. A me si sta andando in su. Ma ha dato un tono, vediamo un po'? Ah, mo mi sbaglio i tasti perché mi confondo con Assassin Kit. C'è, Assassin's Kit, un falcai. Allora, che cosa mi ha dato? Sono un'unimica anche. Sono già. LOL. Picchia, picchia. Andiamo a consegnare la missione, sì. Picchia, picchia, picchia. Picchia, picchia. Il titanico. Mm, vediamo. Qua Lui ce l'ha già Schivata per non scrivere i colpi Cioè gliela la metto Vediamo Questa ce l'ha Questa E la mettiamo a lei Che aumenta la difesa e l'attacco Ok La nave è omessa Ok di qua la nave Siamo Forse porterò Nel mio becchio senza i kid Ok Io li ho portati tutti piano piano Mi sono messo Prima di fare Odyssey Ora va l'alla Forse va l'alla Mi sono messi tutti Quelle che non avevo giocato Oh adesso Andata io Perciò non dare Non dare Ok Così Eh che cavolo Sbagliato Me l'ha chiesto a mano Ok Ce l'ha anche lui A salsa e kid Mi ha detto Ma io l'avevo già portati Tanto tempo fa L'avevo portato Aspetta Unity Dall'unity Fina Prima Quello di Origins Perché non avevo mai giocati Quelli E poi con il 2D Che non mi ricordo come si chiama Con il 2D Ah Sassi skid In India Sassi skid In Cina Però Devo aver voglia O si annoiano Ok Sì Ho portato Asset skid In Cina E Asset skid In India Che sono in 2D Ora si sono Poi devo fare il giro In basso Sto pensando Come faccio Andare lì Sì Tutto dito Non è che ci sono Anche i mob Che ti attaccano Adesso vediamo Se è la parte giusta Che mi perdo pure Nella mappa Anche guardate Alla mappa Mi perdo Ok Sì siamo Ancora in giù Ma come faccio Andare là Non andare qua Non mi ricordo come si fa Non so io come fare Ci vado a piedi Ma fan chiappolo Oh c'è Ah perché stava Caricando Stava ricaricando I mob Ci hanno incantato Non è che sono Più Non è che sono più Tanto No il vereno Quello cattivo Eh Allora Non c'è Tanto Attitolo Mannaggia C'era un modo Per andare Non mi ricordo Cazzarola Fammi vedere bene La mappa Devo riuscire Andare qua Eh ma Si è scriso La mappa Non riuscire Andare qua Non so come faccio Allora Qua è chiuso Perché questa Tella E questa Qua è chiuso L'unico È attaccare qua E andare a piedi Qua B Cora su Ah forse ho trovato Il gioco Che voglio portare Ok Dimmi dimmi No Sbagliato Non voglio andare qua Dico Dico Oh Serviamo No Mannaggia Mi confondo i tasti Qua Lo fammelo a piedi Adesso Adesso Ah è vero Non porto Mi sembra Che Qua posso prendere la nave Posso fare la scorciatoia Andiamo qua a dormire E' vero Intanto Non pensavo Non pensavo Non mi ero preparato Pensavo Niel Niel Forse più lungo E' già è vero Che io pensavo Che era più lungo Niel Allora Adesso Adesso compiamo Un po' di pozione No Prima andiamo a dormire Così mi dispistino Un po' Da vita Qua Ok Dormiamo Vediamo 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 Qualche armi nuova Vediamo Vediamo Vende Cagazza Niente Cagazza Dando Con po' Le pozioni Allora E nevatevi Cosa dico Una proposta Ma l'avevo detto Avete distrutto La cazzotta Si No No Questo non mi interessa Cos'è pace Anche Questa non mi serve Mi servono Le pozioni Allora C'ho i soldi Che mi Ecco Compiamo Una moneta A noi Con io A titolo Tu che vendi Roba interessante Ah Cosa di finisce Vero Wow Ok Mettere Faccio il pieno Ho fatto troppo E poche Secondarie Si Padiglione Non mi interessa Ok Comparto un po' Di roba E' vero Vendiamo la roba Inutile Allora Questa Non mi serve Questa Non mi serve Questa Non mi serve Questa Non mi serve Ok Cos'è Ok Capito Non ho capito Vabbè Ah Questo Non posso Più Usare Scudo Limit Ok Specchio Limit Specchio Ok Tengo Questo E questo L'ho Già Acquisito A posto Non ho capito C'era Questa Una cosa Che aspetta Insegnamenti Effetti Andiamo a salvare Fuori L'uso Forse Mi Menta L'intelligenza Pelenne Almeno Se faccio Una Cavolata Posso Ricaricare Vediamo Come Cosa L'essaggio Non mi Dico Dopo Come Si Chiamo No Si Può Sare In Battaglia Ok Ho Capito Ma Fan Chiappolo Attacco Io Per Prima Tut 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 Ah si, di andare al polto giù di qua. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut c'è una navi volante cazzo non mi ricordavo ah non posso salirci è rotta prendiamo in villaggio magari me lo dico cosa è successo ci sono stati i problemi d'altair forse dovresti andare a controllare se si sto andando se c'entra nave è già partita parola ok siete qui per salire sulla mia navi si senza soldi non potevo resta una parte a che chiedi avete cosa chiedo tutto vi dà magari fa andare via niente ah devo pagare per andare sì ok mi interessa viaggiare sul fiore lo chiedo di sid l'unica non avrà mondo mi importa dove vedrete andare arriveremo in destinazione in battipadeno certi servizi al suo pezzo si tanto su altair o ecco e ragazze e ragazze amico l'aeronave attende qui fuori ok adesso andiamo via con la nave quanto pagato non anche guardato vabbè eccoci me la regala io voglio che me la gara della nave eccoci qua andiamo a consegnare la missione gioco un pochino adesso lungo ok va bene grazie per il look quindi i livelli sono tutte morte ho visto la principessa mentre mangiamo un topo chiudo vi giuro che è vero che schifo principe gold è diventato un condottiero valoroso immagino che abbia giocato passare il tempo con voi la principessa si chiuse il suo appartamento non vuole vedere nessuno che ne ha parla con la principessa ma di nulla che eccola qua principessa ah non c'è la pizza che questo è il gollo idl si sta contando molto stranamente in ultimi tempi ogni ogni volta che le pallo non fa altro che ridere è impossessata da un demone forse ancora in shock per la morte delle non so proprio cosa fare per aiutarla potete provare a parlare con lei per me è impossessata da un demone vuoi vedere i dragoni sono stati iniettati non posso crederci che dice come comportamenti la principessa davvero inisuale chissà cosa gli succede ma questa è sempre la stessa cosa andrà a cercare la principessa qua dentro qua non c'è nessuno gold ha sottutito degna mente sua amistà guida del nostro esercito ok ah lo faccio con piacere anche grazie franco eccola qua la principessa fio vuole parlare di te con te di una cosa non aspettavo qui fuori avvicinano il fio altezza dai sbrigati non mi piace che si fa desiderare ma 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 fanno scopaccia vuole fare scopaccia la principessa oddio eh Kpite ora sei mio fio che cosa hai fatto da principessa eh l'hai impossessata ecco ecco ah dobbò battagliare con quella datte una calmata butta sempre l'hai impossessata da un demone sapevo io no ho sbagliato Vabbè va bene anche qua il fuoco Proviamo un po' Ergita, difesa Cosa è giusto? Si Proviamo bufera Ah fuoco Proviamo fuoco Ci sarà una magia che fa male Allora Fuoco non fa niente Fuoco 15 Questa è la difesa Fuoco 4 65 Forse Cazzo Non usiamo pozione Non usiamo pozione Non usiamo pozione Proviamo attacco fisico Vedere quanto toglie Proprio Meglio qua difesa No questo 121 Ah attacco fisico Fa più male Ok Ma Maria Ah si è rivolto Ah Vediamo se c'è qualche magia Che Qualcosa Ah no Ma solo Qualcuna ne sia Cosa ci sta Pistola un po' Lì Vediamo un po' Non metto un nemico Tutto 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 Ah questo Non c'è il sonno Cavole non sta intendo la vita che è la pozione? anzi usiamo ok va bene così c'è il potere per svegliere dalla sonno mannaggia uno fa sempre da irle non mi devo mangiare fashion c'è bisogna qualcosa buon buon qui mai sono morto Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 a port si giusta da qua giusto questo non posso prenderla hanno parla coltico l'altizio insieme da un passaggio avete la ricerca la nave beh sono loro che fa per voi sono tentati andiamo a parte per noi a me fa niente vediamo se c'era i tomi a qua non vendi tomi ok niente nessuna nave è che cavolo ma posso attaccare io per prima tu 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 mi piace la musichina finna fantasy a me ecco il pilota automatico ecco adesso devo pagare con quelli che mi mandano all'arena dove la taverna dove andare giusto non mi porta all'arena mannaggia niente che scam non mi porta all'arena fanco ma hanno scammato allora 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 devo prendere la mia nave e andarci a piedi come faccio arrivare lì fammi ragionare tu 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 hanno scammato ma c'era un modo per andare qua dentro io mi ricordo che sono andato con questa nave qua con la mia nave però non mi ricordo come ho fatto come ho fatto andarci sto guardando devo guardare bene la mappina se la nave è qua se vado su di qua dovrebbe andare qua perché sono l'embo di terra ad essere però provo può andare su di sopra dove spuntare qua così possa arrivare arrivo qua fatto a piedi tostato qua in toria dove prendere la nave e andare su di qua provo adesso provo fra franco si non ricordo provo e salvo intanto meno meno se va male posso riprendere da qua aspetta dove ho messo un altro di là eh che cavolo si possono anche guardare la mappa ma che sono deboli questi giugno basso ok ci siamo adesso puoi andare su in teoria dove spuntare sotto vediamo vediamo ah sono scappati hanno avuto paura è sì è giusto perciò di qua Imboscata Mob Nella mappa spuntano i mob Si Si spuntano si Tutti fino a fatti si sconsigli Nella mappa spuntavano i mob Fino a 6 Si salviamo Ho sbagliato il tasto Salviamo che ci siamo Non dà l'arena Che si trova nel deserto No questi sono forti Magari si è diventato forte nel frattempo Prima mi facevano un culo come una Una capanna Ah si è diventato forte Meno male Perché qua ero già venuto Però non mi faccio entrare nell'arena Eccola qua Ah posso attaccare prima Per prima Si siamo Siamo giusti Tutututututututututututututut Normal Stai Andiamo lì Ah no Ok, salviamo qua fuori Cufu Ah niente interessante Cos'è quella gatta buia qua? Ah niente LOL LOL Lottate con coraggio in questo giorno E' un imperatore quello Al vincitore da Hilda La principessa di Fini Ok, va bene Hilda Oioi Boss fight Franco No, prima voglio fare una... No ho sbagliato Aspetta Un attacco Dei fare Aumenta la difesa Questo è più debole Ok Poi Attacco 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 Voglio vedere com'è Ah Faccio male con la spada Ok Ok Guardo se A lui Aumenta la difesa Ai personaggi Ok No Lui cosa può fare No Attacco Lui ci ho messo questo Attacco Ma Nella Maria fa Dair Ok Mi ci cura Fa le cose Aumenta la difesa Ok Attacco Allora Non ho detto che faccia Cura Lui Attacco Attacco Poi Attacco Aumenta la difesa Attacco 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 Adesso cosa posso fare Sono un buco nero Non c'è qualcosa Che veramente Lo attacco Ho detto una cosa Che interessante Copio una cosa Ovviamente La scrivata Attacco Attacco Ah Già morto Sono top P D LOL GG Avete Tattacco Con coraggio Allora È il momento Di ricevere Il vostro Premio Questa La vostra Occasione Di uccidere Imperatore Ecco la vostra Ricompensa Un premio Degno Di un Ibelle Firo È scappato Bastaso Un'imboscata Uff Gettatele Nelle Seghete Bastaso Figlio Bastaso Figlio D'un Bastaso Hai visto Franco Mannaggia Ah Da trovare Uscita Posso fare Savataggio Rapido Comunque Cerchiamo L'uscita Mi ricordo Tipo Metà Lì Un cancello Di fuori Bocca R'uscita Continuando Continuando Buonanotte Ah GANDE Questo Per me Mi ha salvato Nelle miniere Ho salvato Il mio debito Ora Ho un Mettivo Prima Che si Scoprano Ok GANDE A proposito Una mia vita Una Pozione Una Pozione Curica Cento Ok 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 A posto A posto Allora Allora La mappa Sud Allora Ditto E' chiuso Non da per forza Su Ci so che qua I mob Scommetto Ma E' chiuso Che qua C'è qualcosa Che non mi Guarda Possiamo andare A Ah Perché Va Nell'acqua Che posso Ammazzate Il latte Allora Andarle Le porte Giù Chi è Chi è Che è andato In live Ah Eddie Ok Andato Eddie Ma dopo Facciamo Il live Dopo Alle 7 Se ancora Il live Ok Ah Qua è vuoto Non è scammato Ah Vuoto anche qua Poi Vediamo Le altre stanze Vuoto Ah Ci sono I mob Ok Tutututututututu Trono Stancante Eh Glio Diamo a lui Ah Strondente Diamo a lui Ciapa Allora Lì c'è un'altra Porta Sotterra Andabas Scenda Bass Oh, ho mancato la porta Chiuso, non c'è niente Ah, lì c'è uno schigno Ah, un mimic Mannaggia Oh, quanta gente Bumba dash Bumba dash Ok Atacca, atacca Mi ha dato una mazza ma non sembra un attito Ah, beh, ah, sono già pieno Sono venuto per niente Adesso andiamo su di sopra Di sopra, ok Ah, faccio le sgommate Faccio la corsa e mi fa le sgommate Ah, ecco, c'è una scaletta Mappina Allora, vediamo Sto ragionando, eh E mi sono i miei giornamenti Vediamo se sono aperte le catapuglie, qua Need for fantasy, sì, eh Perché Premi il tasto e dalla corsa Però Ogni tanto mi fa le sgommate Eh Quanta gente Non vi ho invitati Cosmosi Che fa Ah, si ricarica Picca, 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 picca Sono un po' Sono un po' duretti Sti amici Siamo 5 Ora faccio l'ostra Ah, grazie Grazie per l'ostra Chi si sono? Ah, ok Grazie per l'ostra Ma anch'io Anch'io ti faccio l'ostra Fa Eh, no, eh Mi sa che ho Funzionano gli alert Ma anch'io Dopo guardo Ma anch'io ieri te l'ho fatto In parte gli alert Mi sa che si è bugato qualcosa Adesso controllo Appena finisci Oh, è Twitch Sì Aspetta, eh Mi ha dato un tomo Perché guardo che tomo è Tomo non occhio Tomo non occhio Tomo da Laura Vediamo Beh, metto così No, Twitch di porra Ah, porco Eh, porco l'ide Host Ah, funziona Sì Boh, allora è Twitch Che si è bugato Dove è la live? Ah Prova con l'ide Twitch che si è bugato Perché funziona Visto che ho fatto il test C'è una principessa Mi dà fastidio Vedere il cursore Su una Sono a tappo La finta principessa Va con l'ide Non va anche l'ide Non è proprio bugato Twitch È niente Nero Kuranmi Ah no, oggetto, pozioni Ok, poi Sto facendo i calcoli, no? Va bene, lo faccio a lui Ok A posto Settecento tentati Ah, si funziona Ah, grazie per gli ID Funziona l'ID Adesso non funziona l'host Si è bugato l'host Mi sa che è Twitch Perché che io ieri Te l'ho fatto l'host Non è partito l'alert Pensavo non avevo visto io Mi ce ne è partito Ah, grazie per l'host Franco Stasera se vai live Te lo dico Ti host Te lo dico Se va l'alert Se non va l'alert Vuol dire che Twitch Sta facendo qualcosa Scusa, ma cosa Che c'è sopra qua? Ah, è chiuso Eh, tanto lo stesso Sì, di fatto Sì Oh, si ricarica Tututututututututututututututututututututututututu Pica, pica, pica Ah, siamo in 5 Ah, ragazze per Franco Vediamo se vado sui consigliati Cos'è che mi ha dato un'attura d'oro? Allora diamo il gold No ma il giliado fa l'equipaggiamento Ah figurati Ok Armatura d'ora ho non detto E' buona questa Poi vediamo Giù per denso Questa va bene per lei A posto Poi cos'è che mi aveva dato? Ho visto che c'è l'altra roba che mi aveva dato Su un carriere lo dico tu E' vero che c'è l'ammatura d'oro Ok sempre a gold Ah gold c'è la giacqua è Dono della Laura Perfisco dalla Maria Ecco No ho mancato la porta Vabbè Ho mancato la porta Vabbè Spettiamo questi Dopo devo fare un giro di cure Allora oggetti Pozione Dov'è la pozione? Ah qua La 1402 Va bene Maria facciamo un po' di cure Ok a posto Un po' lui Ancora Ancora Noi va bene Principessa Hilda Tenete duro Vi tireremo fuori di lì In un attimo Hilda stai bene? Gold Non avrei mai pensato Di vederti qui Noi ci chiudono dentro Arriva Il carceriere Gold Prendi la principessa E uscite da qui Tenemo occupate le guardie Non ti vuoi scappate Grazie Filon State attenti Ok Non viene nessuno Ok Adesso Andiamo Doviamo andare Perciò Su di là Ok Attacco Con sorpresa Posso attaccare Per prima Ok Ah Gold Se l'è andato Ah ma Mi ha fregato Mi ha fregato La roba Mi ha nuvato La roba Gold Vabbè Fa niente Ma guardate Vediamo se me l'andate Sì ma se Se l'è andato via Con la mia roba Niente Hai visto Boscata K Ma guardate Gli ho ricalata La roba Non me la dirà Io l'ho ricalata Praticamente Giusto Per quello Eh 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 Adesso ho fatto vedere una cosa Aspetta finisce qua Eh si picchia da solo qua No mi picchia i miei amici Pericolosa quella magia lì Da vedere se c'è qualche rimedio Mi è scappato Vediamo Magia C'è che bersaglio Paralizza bersaglio Annesia Annesia forse quella Non so se è annesia Non potrebbe essere Meno gli schiari E poi forse è annesia Anche si fa male da solo Vediamo No non va bene annesia Non ce l'ho il potere Per togliere quella roba lì Però sto morendo Allora Si Non attacca se no Ancora No Non ce l'ho il potere Aiuto Non so le campo azione Vedo che cura di più Dole Dai Ma che pastasi È il fiore Ah Ma perché c'è Il suscite È un casino Il suscite Eh Adesso mi curo Ma guarda te Mortis Meno male Che si sono salvati Cioè Non so come Falcolare Quella roba lì Vabbè Usiamo Dove la pozione Ecco Ma guarda te Ma guarda te Ancora No Ho specato una pozione Vabbè 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 Aposto Ah Sono tornato All'arena Quello Se n'è andato Ah Non da riuscita Allora Sì Beh Adesso Tornare Adatta Il giusto Allora Salviamo Giusto Giusto Perciò Andiamo Alla nave Andiamo Alla nave Qua Qua La nave Jota Paso Si al paese Si al Si Doctornare Al paese Si Si Perché la principessa è stata liberata E' tornata Al suo paese E' tornata al suo paese Oddio le lane Che butte Anzi Sono l'ospi Mannaggia Ha fatto il veneno E' dopo la culo Dopo la La battaglia Con la fine La battaglia Il curo Allora C'è già il titolo Pozione Allora Lui Uno Va bene Poi Ok A posto Allora Salviamo Adesso Andare Al paese Che si deve Spassare Nello stetto Oh 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 Sì, sì, sì. Nel paese Ah si Devo farti vedere Me l'ho dimenticato Me l'ho fatto prendere Allora Aspetta Prima Non dare in dashboard Di cosa Mi stanno dimenticando Voglio vedere Se funge Allora Su twitch Non dare la mia dashboard Voglio vedere se funge Come funge sta cosa Ecco vediamo si funziona Me l'ho fatto prendere al gioco E me l'ho dimenticato Allora Vedi che c'è qua Questo Trasforma in un momento Sembra per fare Delle clip Speciali Che a me Mi hanno dato la beta Vediamo si funge Allora Ricompensa I spettatori I spettatici Per aver partecipato A questo momento Gli spettatori E spettatici Di questo momento Dicevranno La clip aggiunta Al proprio stemma Momenti Ti restano 5 momenti Da acquisire Questo mese I momenti Saranno Pistinati In primo marzo Modifica i momenti Dopo lo streaming Pagina momenti Guarda la pagina momenti La voce contenuta E la dash operatore Ok Che a momento In carica Ah il momento Dura 4 minuti Ah no Dura 5 secondi C'è una specie di clip Però danno le ricompense A chi c'è in chat Delle morte Ma mi sa Mi sa che devo Mettere le morte Però Non la chiudo qua E posso fare 5 in un mese Ok Eh Bene Ho tenuto un momento Davo i snake Ah riscatta Ti è arrivata una cosa Da riscattare In chat Franco Vediamo Riscatta Potevano essere necessari Diversi minuti Affinché il momento Venga aggiunto Lo stemma Momenti Ok Tutto chiaro Hai capito Ah mi sa che Che ho No Non Se тобой ti 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 Tu 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 Ah sono arrivati Andiamo a dormire chi è? Chi siete? L'esercito di ribelli è pronta il nostro primo obiettivo e riprende controllo il castello del fine Il principe god e la principessa Hilda sono accampati nei pezzi della città Dovesti andare subito la unilibera causa C'è la ribellione Ok Perciò andiamo a salvare adesso C'è la campagna La pesce e la città Ho sbagliato, ho dovuto vedere la mappa Forse ho capito dove sono Forse da andare su di là Picca 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 Ah posso usare i fiumi Così non mi vengono fuori i nemici Ecco Vai qua Eccoli là C'è la tenda là L'accampamento Perché salvo fuori Il castello Sono a posto Presto nostro Ok Non invadere il castello Ok Filo, mario, gui Mi devo la mia vita Sembra che debba anche ringraziare Per aver distrutto la colazzata Non so come potrò mai Servitarvi con voi Ah Chiedo cose Magari mi dà roba Ah io ho dato la rosa Gli ho dato la rosa Selvatica Cosa succede Filo Perché Allo Sissi Non ti mette Sono la vera Principessa Cosa succede Filo Perché Sono Sissi Ancora Non ti mette Sono la vera Vabbè Buona notta Niente Ah forse devo dargli qualcosa Larità Ciondolo Fuoco solare No chiedi Larità Campana Annello Lascia passare Niente Parliamo con lui Siete voi Il fulco del nostro attacco Mentre noi Teremo impegnate Le forze imperiali Vi fuorirete Oltre le mura E uccidirete Il comandante nemico Ok Non ho capito Perché mi fa fare Sta cazzine Magari Daglio un oggetto Che non ce l'ho Cazzo Vedi che Rosa Silvatica Mi dice Que Forse dopo Questo Daglio L'anello Vabbè Non so cosa dare Qua Dunque Devo andare a fare L'attacco Devo uscire Dal villaggio Qua Perché il castello Su di qua Mi sembra L'olio Eh sì Allora Salviamo fuori Qua Ok Allora Ma Ci sarà obbligata Ditto Cogno Se volete Allentare In territorio Nemico Vi servirà Anche la mia Forza No Ah Lei ha Finito La squadra Ok Vediamo se Abbiamo qualcosa Per lei Da metterci Sopra Inquifaggiamento Leira Sfada Alatta Ok Poi Scudo Ok Guanti Guanti Ma Un 56 Questo Poi Oh E non mi faccia andare Di là Mi schivate Tante difese Andiamo 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 La mettona Adoro Questa Fa schifo Poi Magie Che cos'è Che c'ha Ah C'è Tutte queste Robbe Qua Ok A posto A posto Salviamo fuori Va E che cavolo Salviamo che ho modificato le cose Alla Tiz No Andato Tomo Tomo Furioso No Lei No Ah Gui Ok Tomo Tossico Ah Ce l'hanno Già Tutti Questo Cazzo Le pozioni Mi sono Dimenticato Andiamo Con un po' Di pozioni Andiamo Qua Cazzo Ci sono Questi davanti Che fanno La guardia Ah Ci sono Puni Mob Andiamo Nell'altra Città Guarda Stanno Stanno Ci c'è C'è la città Qua Allora C'è il letto Ok Andiamo a dormire E andiamo con un po' Le pozioni C'è la città Allora, vendi qualcosa Spada alata Ok, due Ascia guerriera, via Gancia, via Giugbe a bronza, via Guanti bronzi, via Mazza, via Albo di miti, via Pugnale, via Spada lunga, via Toscico, via Ok A posto Che cosa vendi? Cosa è un malificio? Non so se è un malificio Quello che mi fa Quello che fa Nesco Mazzurro Quanto costa? Per esempio Se riprendo tutte Quanti soldi spendo? 7.000 Si faccio in time 5.000 Va bene Compiamo tutto Per sicurezza Andiamo a dorare Pietà Ah, mi sono rimasto I soldi Ah Ho insagerato Non ho visto Vendiamo algo Dorato Allora Mannaggia Ecco Va bene Così Oddio Il padiglione Non uso mai Posso vendere No Ho sbagliato Mannaggia Non fai vendere Ok Ho fatto Va bene Vediamo cosa c'è Se c'è qualcosa di interessante Te che vuoi Le fossili belle Ci stanno organizzando Sotto la guida Il pc Ricordio Dal pc Pezza Stanno andando Troppo vicino All'aro Niente interessante Ok Possiamo uscire Che qua Non c'è più Niente interessante Sembra che c'è La patta Ah Niente LOL In boscata Attacca Non lo più Più Magari Mi fanno niente Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Allora salviamo E andiamo dentro Salviamo qua Ah ci sono skin Appendici gli schini In boscata attaccano loro per primo no sono no magari a mirar se dura sempre ma ah no allora mi tu 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 pukey picchia 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 pozzoni ah ero pieno ok di la sto vendendo la strada che devo fare ah un mimic vediamo cosa c'è dentro un po' di gente fa la sitta mannaggia eeeh wei waiu dopo devo fare un po' di cuore cos'è il tesco lì eeeh ciao eeeh 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 attaccano più veloce attaccano più veloce torno a verla oh cazzo adesso cosa posso togliere ah vediamo adesso è ah vediamo la messina eeeh noh maleficio è noh Poi ho un tomo Ok, ha la pozione adesso Lui va bene, puliamo un po' lei A posto Un po' A posto A posto Adesso andiamo in quella porta, in quella scala No, picca 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 Allora, qua è un magnifico quello colteschio Allora, questa è l'obbligata, ditto Questa è l'obbligata, non c'è nient'altro Picca 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 Ah, c'è qua, non l'avevo visto Dei ribelli qui, dove sono i miei soldati Non ci credo Era una tappola Boss fight Allora, facciamo attacco Allora E c'è da A questi A questi Attacco 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 Ed è sicuro C'è la cola C'è la cola, eh Andiamo Pozioni Attacco Attacco Agita Attacco E pozioni Attacco E pozioni Attacco E pozioni Attacco E pozioni E pozioni Adesso Adesso tutti attacco, attacco, attacco Molto C'è quella tattica qua Va bene Sono OP adesso Tu 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 Hai sconfitto con un tante nemico Cazzin' Ah si Finalmente siamo tornati Non sarebbe stato possibile senza il vostro aiuto Vi ringrazio intensamente Finalmente siamo tornati a casa Non sarebbe stato possibile senza il tutto di tutti voi Tuttavia c'è ancora una cosa che mi preoccupa Miniu è partito per misidia Ma non abbiamo Ma non abbiamo saputo più nulla di lui Non vorrei chiedere un favore del genere Subito dopo aver conquistato il castello Ma Potete le castello a misnia e cercarlo Annotta Chiedi Misnia Misnia è la patria dei maghi Senza alleduto dei loro alti occulte Sconfigge l'imperatore e sarà facile Si dice che nell'attore di misnia si trovi quello che è a detta di molti l'incantesimo supervo Per ottenere non pare che ci siano necessarie due maschere Annotta Maschere Chiedi Maschere La maschera bianca riposa sotto questo Stesso Eh Blah La maschera bianca riposa sotto questo stesso castello Per aprire la porta che conduce sotto l'anile dovete recitare un incantesimo Le parole è che interesse soltanto ammantate la a file da tempo immemori Annotta Chiedi Mi dispiace purtroppo non so dove si trova la porta Ok adesso chiediamo Maschere Maschera bianca si eh Chiedi Misnia Ah vero chiamo la nostra salvatica Niente A posto Poi chiediamo parlando con lui Non saremmo mai riusciti a conquistare il castello senza il vostro aiuto Tuttavia Filum Minum è ancora tornato Potete arricare la mista e controllare cosa è accaduto Chiedi Signale che la torre mista costruisce il Toro di Ultima Un libro che racchiude la magia suprema Annotta Chiedi Sono certo che sarebbe utilissimo la vostra lotta contro l'imperatore Ok Poi chiediamo queste Ora che il castello è scomparso Ide la persona che conosce meglio questo castello Se persino lei lo ignora Momento Power potrebbe saperne persino più di lei Dopo tutto non fa altro che ripete di essere il più grande lardo del mondo Maschere Maschere Non so niente Ma questo l'ho già detto Dopo un'inizio Ok a posto Ok Cercare il tizio Poi ho sbagliato Non lo vedo la mappa Qua Ora qua non c'è più niente Andando giù Pagno io vado a live stappoco Quindi vado Grazie per queste tre ore belle Ah grazie a te Grazie per aver fatto compagnia Ah dopo ti faccio live allora se vai in la Eh si vai in live Dopo ti faccio live Ah dopo Ciao a dopo Allora salvo Allora salvare Non ho sbagliato tasto Ok Ok salvato La saludenza Ok Non trovare un tizio chiamato Paul Questo è il piano piano che se non fai Non avevo tega finquanto nel mondo non te ne darà la pace Ok Dove c'è l'altro tizio di chi si chiama Paul Qua non c'è niente Ah che Eh Faccia col cuore Ah ho già parlato Ah ho sbagliato Cosa potrebbe essere successo a Minu Partito per in schizia non è più tornato Non trovare sto tizio di Paul che mi dice Pare che in sotterra in questo castello si è nascosto un seghetto collegato in qualche modo alla Torre di Misria Ho sentito dire che a Misria ci sono molti testi antichi Dovete provare a cercarli Vi sarebbero di grande aiuto Ce l'avevamo fatta Fino di nuova nostra Finalmente E' tutto merito vostro Grazie Ah lì c'è un tizio Come si fa andare? Ah 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 Come faccio ad andare di la? Ah ci sono gli schini e mica l'ho vese prima Soldi Soldi Anche lì ci sono gli schini Ah sono andando in stand-by tutto qua Vediamo un po' Soldi Ah qua c'è una scala Queste arete e queste scale Per raggiungere il sale allo specchio E per andare di là Ah forse devo andare di qua E mi fanno andare là Allora ci sono due stanze qua Ah c'è uno specchio qua La superficie questo specchio Non è che il minimo segno di imperfezioni Chiedi Ah lo chiede a Roma E chiediamo tutto E' bello lungo sto giochino Ah vero Uuuuh Ho esatto un oggetto Ciondolo Aspetti i rifetti E ne mangio un uovo Mi facciamo Ah da vedere l'uovo Ok ho capito L'uovo di viverna E ne ho buttato là nell'acqua E ne ho buttato là nell'acqua Non ne ho appendolo Magari ce l'ho Aspetta Continuiamo Eh no Lo facciamo anello L'uovo Solo col ciondolo Sfunzione Non da tornare a prendere l'uovo di viverna Che l'ho lasciato nell'acqua Non ho capito Ah no L'uovo di viverna Do cazzo non ho esso L'uovo di viverna Non mi ricordo Adesso andiamo di qua Ah skin Troma ridusa Tutti tromi L'automo mortale Lo diamo No anzi Ok C'è più niente qua Trovare i sottellani Allora Magari c'è una porta segretta No Faccio andare Mi manca solo uscire adesso Ah vero Andiamo a dormire È liberata adesso la città Ecco che è andato in live Funko Dormiamo Allora compiamo dei cetti Dimenticate che noi abbiamo avuto un oro Nella conquista di Firenze Vediamo qua Cosa vende Buona roba Scudo dodo Ma se non compo niente E' vero cosa lì c'è questa Anche se è conquistato Firenze La guerra non è ancora finita Combatterà la battaglia C'è sia quanto minimo Ha fatto ritorno alla misria Non avevamo pensato di vedere Firenze Firenze con i miei occhi Pozzo non si può mai intare C'è una taverna Dopo andiamo in taverna Allora pozione Oh c'è il magnifico Qua dove va bene Ha gotolato no Che spendo un casino i soldi Qua Niente La stavola si andava di qua vero? Vediamo qua c'è la stanza segreta Non c'è niente Boh Ai Tommy C'era tutti questi Tomini Boh Compiamo Oggetti Tomini Tomanti Magia A posto E se tornate a vivere qui come un sogno Che sicuramente ha velato Ok Levati C'è più niente a fare qua Salva Lo trovare sta cittadina a Misri Magari andate a parlare col tizio là Ah no Dopo guarda la guida Dopo la aspetta Guardiamo la guida Andiamo su Telegram Andiamo su Telegram Cerchiamo sta Bisni 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 Castello Ok Ok Nota Tena Grazie. Andata alla sala del tono e ho fondato in l'angolo in alto a destra. Ah, ok, c'è una parola magica da fare. Ok, ho capito. Ok, andiamo. Ora, salutiamo. io non vedo niente c'è un pulsante da pemi con la parola magica aspetta mi sfugge dov'è e che cambodia grazie ah non dare da gordon che non esce il segreto e la massa attuale dentro la casa che si trova tornandoli in basso a sinistra prima devo fare questo ho cambiato scena un salino ma si è cambiato il freddo è scuro ah che hai ritardo un po' la live non andare in villaggio non guardare ah la casa quella lì in basso a sinistra non parlare con un figlio un butto furfante come stai? chiedi torno di ultimo no? cercate informazioni forse segrete il castello in fly sono un uomo che fa per voi immagino che non possate dimmi cosa c'è dentro quella stanza così per curiosità una maschera bianca non mi sembra che possa valere molto non mi interessa prendetela pure voi cercate la sala dell'udienza e la destra del tono comunque penso anche a voi fosse dei collezionisti cosa vi serve con la maschera? ma che diamo tutto allora a posto c'è più niente qua ok lasciamo ah di qua è riuscita mannaggia allora ho chiesto alla maschera c'è una lettona a destra che c'è un pulsante mmm io non vedo ma dove scavo dueee ah ha trovato no no c'è una piccola fessione nel muro è una porta segretta trovata no ma c'è l'epoca ma adesso ci sono gli scrigni anche nemici ci sono ok picchiamo di calcoli sono 50 te picca picca tutti tutti ma mi stanno colando non ora salmiamo l'appino no è sbagliato mutoni ne ho messi ma c'è anche uno schieno sotto vabbè picca 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 colino vabbè picca 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 chi è a pupetta vipa mamma No, abita! Allora faccio lo schieno là sotto Ficca, picca, picca C'è una porta, venga Picca, picca, picca Ah e vuoto Mannaggia Picca 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 Ah e Picca 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 Coltella Non andassi in alto Picca 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 No questo era lo so un minuto managgia Ah e Mi sono imboscato pure Ho sbagliato Ho sgommato Picca 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 Quanta arriviamo all'altra stanza salviamo e stacchiamo Sono cotto Ecco Pika 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 Non facciamo il fine in Zero uno Qua c'è uno schiskano Ficca, ficca, ficca Ecce Andiamo di là Cos'è, cervelli Ficca, ficca, ficca Ficca, ficca Possiamo Eh, c'è una porta tutta ditta Ficca, ficca, ficca Ficca, ficca, ficca Ficca, ficca, ficca Basta Stacchiamo, va Salviamo E stacchiamo Basta